Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Black Myth Wukong perché ci sono degli oggetti che mi sono lasciati alle spalle. Infatti sono andato a ricontrollare, cioè, ho ricontrollato il mio inventario, ho ricontrollato un po' tutto quello che era fondamentalmente il mio inventario e ho notato che ho un sacco di oggetti che non ho ancora usato. Quindi, perché non li ho ancora usati? Quindi, ecco, due di questi sono le mani del Buddha perché una mano del Buddha l'ho già ottenuta tramite la storia del capitolo 3 mentre invece la mano sinistra del Buddha non l'ho trovata e da quello che ho potuto vedere e da quello anche che ho letto in giro senza farmi troppi spoiler perché poi cerco di recuperare il tutto per conto mio ho letto che praticamente bisogna esplorare bene l'antro inferiore delle ragnatele per trovare ovviamente la mano sinistra del Buddha perché la mano destra io già l'ho presa vi ricordo appunto che si prende tramite boss fight mentre la mano sinistra invece no. Quindi sono appunto, in questo momento, mi sono proprio teletrasportato nella zona del terzo capitolo nell'antro delle ragnatele antro inferiore proprio come mi è stato suggerito come ho letto fondamentalmente e ora qui dobbiamo esplorare dobbiamo esplorare e devo trovare non lo so, devo trovare qualcosa devo trovare una zona magari che non ho esplorato ecco ragazzi mi sa che è qua praticamente c'è una sorta di spaccatura nel muro che io non avevo notato infatti stavo girovagando proprio per questo motivo e si trova alle spalle del santuario quindi non appena voi vi teletrasportate basta che vi girate al contrario e praticamente troverete questa spaccatura sulla sinistra anzi, ora ve la faccio vedere eccoci qua, siamo praticamente al santuario che vi ho fatto vedere prima solo che anziché andare avanti come ho fatto io voi dovete andare indietro dovete andare praticamente dove ci sono queste grosse sacche appese di ragnatele e non appena arriverete qui sulla sinistra subito c'è questa apertura quindi bisogna entrare in questa apertura ed entrare avanti era veramente facilissimo non me ne sono completamente reso conto ovviamente con la fretta anche con la voglia di stare in live eccetera eccetera non perdo effettivamente tanto tempo nell'esplorazione o comunque a guardare effettivamente quello che c'è nella mappa però nel momento in cui posso fare backtracking ovviamente ci penso e dico oddio c'è della volontà da raccogliere qua cioè una volta che poi uno esplora e capisce effettivamente cosa deve fare dove deve andare è ovvio è letteralmente ovvio quello che deve fare però aspetta perché qua dietro non vorrei che ci fosse qualcos'altro perché vedi qua c'era qualcosa ah il luogo di meditazione ok dopo la meditazione a sto punto immagino che la strada qui sia unica quindi direi che posso andare avanti e sicuramente ci sarà una boss fight perché la mano destra di Buddha era una boss fight quindi immagino che la mano sinistra sia altrettanto una boss fight oh un'altra rana? è vero io qua non ne ho sconfitte rane a posto tra l'altro questa rana inconsciamente mi ha potenziato a bestia ecco vedi il quinto girino quindi ce n'è una in ogni capitolo ah mano sinistra del Buddha me l'ha data lei? oh ma pensavo ci fosse una boss fight invece no quindi adesso finalmente ho tutte e due mano sinistra e mano destra del Buddha e uno potrebbe dire ma che cosa ti servono la mano sinistra e la mano destra del Buddha? è molto facile ragazzi c'è una fiaschetta che si può prendere tramite ah guarda dove sono spuntato c'è una fiaschetta che si può craftare con entrambe le mani del Buddha andiamola a prendere ecco qui ci siamo teleportati nella pergamena e adesso che abbiamo finalmente entrambi le mani del Buddha e noi andiamo al negozio ecco qua vedete? fiasco della benedizione immortale mano sinistra e mano destra del Buddha il recupero della salute viene dimezzato ma l'attacco viene aumentato per un breve periodo dopo aver utilizzato il fiasco ovviamente non è un fiasco che utilizzerò mai però per collezionismo devo comunque prenderlo e quindi ci sta e abbiamo preso anche il fiasco abbiamo preso appunto anche il fiasco che sfrutta entrambe le mani del Buddha quindi questo è stato un video abbastanza easy molto veloce non pensavo di sbrigarmi così in fretta è vero che mi sono segnato le cose da fare perché le cose da fare me le sono segnate però sto cercando qualche indizio su internet senza cercarmi spoiler proprio per avere ancora una sorta di padronanza del gioco e non dipendere fondamentalmente dalle guide perché dipendere dalle guide è sempre brutto soprattutto in giochi come questo però qualche indizio qualche cosa che magari mi è sfuggito soprattutto in live lo recupero volentieri anche per avere una consapevolezza diversa del gioco quindi per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima e ciao